Eeeh, bella ragazzi, qui è qui su Willibri, ritrovati nel mio canale in questo nuovo video, oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GT5 Metto bella raga di Madaman su Spotify Ehi Google, stop, ricominciamo che è meglio Eeeh, bella ragazzi, qui è qui su Willibri, ritrovati nel mio canale in questo nuovo video, oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GT5 Online In compagnia del nostro fantastico omino sulla poltroncina degli acquisti Perché oggi andremo ad acquistare un'altra auto come fosse una novità, in realtà l'auto è una novità, però che compriamo l'auto e la modifichiamo non è una novità, ma va bene Ebbene, io direi di non perdere tempo e andare direttamente sul sito dove viene venduta quest'auto, perché stiamo parlando della Ocelot Locust Ocelot Locust che dovrebbe essere ispirata ad una Lotus Eleven, credo O almeno così sempre, poi la Ocelot all'interno di sto gioco è la Jaguar praticamente Però boh, date i vostri giudizi qua sotto nei commenti Comunque sia, l'auto come possiamo vedere è molto particolare Il prezzo di quest'auto è di 1.625.000 dollari Ebbene, io direi di andare a leggere la descrizione come al solito Il pedigree della Locust Biposto decappottabile risale al 69 e questo è il risultato di 40 anni di test su pista Nessun tettuccio, nessun parabrezza, nessun finestrino, nessun compromesso e nessun riguardo per la tua inculumità Se mai ti fossi chiesto come sarebbe guidare con un'unica conclusione logica all'orizzonte Questa è la tua grande occasione per scoprirlo Perfetto, andiamo a prenderla bianca e non ci facciamo domande Ce la facciamo mandare al garage, livello 1 dovrei averci dello spazio Invece no, al livello 2 c'ho dello spazio Nice, e un milione di dollari sono partiti così belli belli Bene, alziamoci, camminiamo, a sto giro prendo il giro largo dell'altra parte E me ne vado dal garagino Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 likes Se volete altri video di questo tipo dove andiamo ad acquistare e modificare i veicoli su GTA Online Mi raccomando, controllate che l'hai sentato, cliccatelo per venino finché non è il tabello Oltre, condividete questo video sul canale per non perdervi i prossimi video Se lo fate, siete dei grandi Ah, e tra l'altro, se ci fate caso, è molto simile a quest'auto Cioè, il concept è quello, diciamo E beh, adesso lo sapete meglio di me come viene occupato questo momento d'attesa Pubblicità Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GTA Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione Ok, ed eccola qua arrivata Come al solito, in tempo, perfettamente in tempo Ed eccola qui Qui c'abbiamo la nostra Locust Che, regà, è una Lotus, paresemente Ma va bene, se il gioco vuole farci credere che questa sia una Jaguar Contento lui, contenti tutti Poi, poi non lo so, eh Comunque sia, l'auto è molto, ma molto bellina Mi piace, non è male E quindi più che altro io direi direttamente di salire a bordo ed ascoltare il sound Particolare Andiamo a modificarla, dai Vediamo un attimino che modifiche ci hanno messo per questa piccolina qui Allora, le armature non le andiamo a mettere I freni li mettiamo al massimo I motori li mettiamo al massimo Le marmitte, allora, ci abbiamo doppie Radiali oppure squadrate in titanio Rettancolari in titanio Squadrata grande in titanio Triple, radiali e squadrate Io direi di andare a mettere Sostanzialmente Dai, mi piace questa Doppie squadrate Poi abbiamo paraurti anteriore Ce l'abbiamo da strada Oppure da strada in carbonio Da strada compresa d'aria Compresa d'aria in carbonio GT GT in carbonio Da gara e da gara in carbonio Direi di andare a mettere da gara in carbonio Perché gli apre completamente la griglia, no? È una roba incredibile, ragazzi Andiamo a mettere questo cofani Invece Ariato Ok, non male Ariato doppio Quindi togliamo anche queste due T Che non so cosa vogliono dire Bombato Oppure ventilato Ventilato Compresa d'aria Intanto ho guadagnato 2000 dollari Così a caso Vado a metterlo a riato Dai, non mi dispiace Non voglio sporcare tanto la carrozzeria di quest'auto Quindi direi di buttarci su cose base Tranquille Ebbene Allora Fari Invece ci li mettiamo all'oxeno Kit neon e skamaneon Al massimo Poi scegliamo il colore Livrea Cioè abbiamo le livrea Striccia nera Striccia bianca Striccia gialla Non male La stricia gialla Kronos Escalera Oppure abbiamo la exo bed Cos'è? Exor bed Oppure la nark Bella la nark Non mi dispiace Però Come al solito Sempre troppe robe Jackal E thexplarius E poi auto exotic Proviamo a creare un abbinamento particolare con la linea gialla Che tra l'altro Non so se vedete Ma all'interno E poi all'interno Oddio Ci sta sto robo qua Che è sempre tipo un radar Non so cosa sia Non ne ho la più pallida idea ragazzi Praticamente è il bordino giallo Quindi tipo magari con la livrea gialla Riusciamo a creare qualcosa Mettiamo la stricia gialla E vediamo Allora Targhe Mettiamo quella personalizzata Ovviamente Verniciature Ecco qua Alle verniciature Eccoci qua Vediamo un attimino Che abbinamenti riusciamo a fare adesso Ragazzi Io ho trovato la combinazione Che piace a me Lasciamo la parte principale Il colore principale Bianco ghiaccio Metallizzato Mentre per il colore secondario Che praticamente sono queste linee Diciamo Laterali Le facciamo nere opache Che poi con la linea gialla Che passa così Diventa bello bello Vorrei vedere pure un attimino Se ci stanno poi magari Delle cinture Dei colori per le cinture gialle Sarebbe bello Per il momento Va bene così Gabbia di sicurezza Beh io direi di non metterla Perché roviniamo completamente La particolarità di quest'auto Quindi non mettiamo La minigonna invece Ci abbiamo da strada Da strada colore 2 Che è ok In carbonio Racing Allora Il racing Io vorrei mettere Mettiamolo in carbonio Sì sì Da in carbonio Spoiler In carbonio Ovviamente si parte così Oppure gt colore 1 O gt in carbonio Aggressivo Non male Oppure aggressivo in carbonio Colore 1 da strada In carbonio Da gara Eh Eh Non lo so ragazzi Non lo so Vado a mettere Il gt colore 1 Non mi dispiace Non è esagerato Perché comunque Quest'auto mi sembra Leggermente delicata A livello di linee No Quindi è inutile Andrò a mettere Roba incredibili Mettiamo una roba Limitata Diciamo Le sospensioni Eh Vabbè Le mettiamo da gara La abbassiamo ancora di più Trasmissioni al massimo Turbo Lo mettiamo pure Ruote Tipo di ruote Ragazzi So io Cosa voglio fare Vado a mettere Le carbonic Z E ascoltatemi Un attimino Perché sulle carbonic Z Puoi colorare Il cerchiettino Solamente Quella parte Lì E vado a mettere Un bel giallo Adesso Un bel giallo Racing Ragazzi Guardate Che figata Che va a richiamare La livrea Figata Perfetto Pneomatici Se sempre pneumatici Le scrittine Le andiamo a mettere Gommanti proiettili Sì E il fumo A sto punto Io direi di metterlo Giallo anche quello Dai Ci può stare Ci può stare E abbiamo finito Vabbè ovviamente Non ci stanno i finestrini Né nulla Abbiamo finito A questo punto Io direi di mettere Il colore del neon Che lo andiamo a fare Sai che c'è Lasciamolo bianco Non vorrei esagerare Con il giallo Lasciamolo bianco Perché già di giallo Ce n'è abbastanza Così e sta bene Anzi quasi quasi Vi dirò Fangala Le ruote personalizzate Togliamo le scrittine Che mi piace di più Così ragazzi Quindi bene Usciamo E andiamo a provare Quest'auto Questa Lotus 11 E ok ragazzi Ed eccoci qua fuori Dalla nostra mega officina Con la locust Bella Che è modificata E devo dire che Mi piace davvero tanto Mi piace tanto Il fatto che La livrea Non sia invasiva Che comunque È come se avessimo Due livree Perché ste linee nere Che passano così Sembrano un'altra livrea Accavallata con un'altra livrea Ancora Molto bello Sto pirulino Che non riesco ancora A capire cos'è Che sembra Raga vi giuro La fotocamera Dell'iPhone X È uguale Ma il lampo di genio Che mi è venuto Che mi è piaciuto davvero tanto È stata la roba Di mettere Sti cerchioni In carbonio Che comunque Vanno a richiamare Le parti nere Di quest'auto E anche le parti Stesse in carbonio Con il cerchiettino giallo Per richiamare La livrea E questa piccola Fotocamera Dell'iPhone X Qua sopra Per il resto L'auto È veramente bella Non mi dispiace Avrei preferito Poter modificare Qualcosina in più Sul posteriore Come ad esempio Anche magari Le cinture Di sicurezza E farle gialle Sarebbe stato Molto più bello Ma va bene A noi ci va bene così Ascoltiamo il sound È molto particolare Molto ma molto particolare L'auto si classifica Come una sportiva Quindi acceleriamo E andiamo a vedere Come si comporta Questa piccola Locust O Lotus Eleven Chiamatela come volete Tra l'altro Il pannello Del contachilometri È digitale Quindi Ok Quindi io direi Come al solito Di buttarci Sulla nostra Autostradina Della velocità E vedere Come va L'auto Che già da questi Primi metri Mi sembra andare Davvero Una bomba Difatti Oh non lo so Sarà magari il fatto Che è aperta Ma va Va davvero parecchio Vabbè ovviamente Lì il pannellino Da dati fake Come al solito Ma questi sono dettagli Ma l'auto Regà Mi sembra andare Difficile Ci sarebbe di fare Un confrontino Con qualche altra Sportiva Però Non mi sembra male Dai A questo punto Io direi Di fare il test Della frenata In 3 2 1 E Via Molto ma molto Buono ragazzi Cioè Si è fermata davvero In tempi brevi Io direi che ci sta Andiamo a vedere Un attimino Se è un 4x4 O un trazione posteriore A me sempre Un trazione posteriore Però non si sa mai Preferisco sempre Provare Vediamo Trazione posteriore Infatti Come pensavo Bene Che poi tra l'altro Regà Aspettate un attimo Perché io non ho capito Spiegatemi Questo qui È il motore Per forza E questo davanti Cos'è Boh vi giuro A me sembrerebbe Un piccolo motore Elettrico Ma non vorrei Failare Cioè Non lo so Può darsi che St'auto Magari nella vita Reale Ibrida Vi giuro Non è Ho la più Pallida idea Chiudiamo Tutto E andiamo A non gli dare Pedate Andiamo a vedere Il test Della tenuta Come si comporta Quest'auto Con la tenuta Di essere reattiva Ho notato Che è molto Ma molto reattiva La tenuta Forse è causa Della sua troppa Reattività Però bisogna Prenderci la mano Per il resto Tiene bene Però una volta Che ci prendi la mano Poi ti tiene Abbastanza bene Molto bene Test delle curve In velocità Una roba dove Quasi tutte le auto Perdono Vediamo se questa Locust Sarà in grado Di reggere Eh Tenta ad andare Sulle due ruote Addirittura Alla massima velocità Non ci devi entrare Altrimenti Ti schianti Vai dritto Però Se vai a velocità Moderata Forse Ma neanche Niente Non mi piace La curva D'alta velocità Non mi soddisfa Affatto Perché o si mette Su due ruote O si schianta Quindi curva D'alta velocità Bocciata Vediamo un attimino Allora le derapate Vediamo come Se la cava Con il drifting In my life Be like No 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 Ma perché St'auto va su due ruote Senza un motivo logico Questo ancora Io la devo capire Ma ma dettagli No non ci riesci Nemmeno A driftare Bene C'ha un recupero Di controllo Che niente No non si può driftare Assolutissimamente Troppo rigida L'auto Troppo troppo rigida Reattività Ottima Velocità massima Ottima Anche quella I freni Sono ottimi Pure quelli Però per quanto riguarda Il lato Curva ad alta velocità E drift Non ci siamo Quindi ragazzi Che dirvi Fatemi sapere se il video Di qui sto lasciando Un bel like Oggi abbiamo acquistato E modificato La Ocelot Locus Che non è altro Che una Lotus 11 Secondo me Auto che Mi è piaciuta Parecchio Mi è piaciuta Come è venuta Modificata Non mi dispiace Quindi ragazzi Vi raccomando Superiamo assolutissimamente I 300 like Se volete altri video Di questo tipo Dove andiamo ad acquistare E modificare I veicoli su gt online Mi raccomando Controllate che l'hai Se andato Cliccatelo per venire O figlio di prodotto E condividete questo Sostra di canale Per non perdervi I prossimi video Quindi se volete passare Delle miei progetti Sessioni su di tutto Bella ragia Grazie a tutti